La Rebel Dynamics si è rivolta ad uno dei laboratori del Politecnico per realizzare una campagna di test su un simulatore di gara cinematica parallela. Sono stata coinvolta pertanto in questa attività e proprio grazie a questo coinvolgimento l'azienda stessa ha potuto conoscere le mie competenze e rendersi conto che una figura di questo tipo poteva essere un ruolo importante all'interno dell'azienda stessa. E proprio grazie a questo link una volta terminato il mio dottorato ho ottenuto il coinvolgimento in questa azienda e ho potuto proseguire la mia carriera in un ambito industriale in Rebel Dynamics. Grazie a tutti!